Un nuovo appuntamento con l'informazione ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro TgGiorno che apriamo parlando di lavori e in particolar modo ci concentriamo sulla rotatoria di via Fiorentina. È uno dei cantieri aperti ad Arezzo, un progetto che ha visto lievitare tempi e costi. Di questo si occuperà il consiglio aperto di domani. Intanto l'assessore Sacchetti ci spiega le motivazioni. Giovedì è previsto il consiglio comunale aperto sulla rotatoria di via Fiorentina. Un'occasione per spiegare ai cittadini come stanno procedendo i lavori, perché ci sono ritardi in questo cantiere e perché stanno lievitando i costi. Il progetto, come credo si sappia, prevede la realizzazione di una rotatoria, quindi di un'intersezione a raso in combinazione con un sottopasso stradale per la tangenziale. E quindi verrà illustrato proprio nel dettaglio quale sono state le motivazioni che hanno prodotto queste dinamiche. Che poi sostanzialmente sono dovute al fatto che il progetto messo a base di gara prevedeva chiaramente che il tema della risoluzione delle interferenze, cioè sostanzialmente per fare questo scavo, per realizzare questo sottopasso, erano presenti delle interferenze, fosse in qualche modo risolto in fase esecutiva. E' quello che è stato fatto. Questo è stato risolto e ovviamente ha portato via un paio d'anni questo lavoro, perché sono circa una decina le società interessate alla presenza di sottoservizi. Entro settembre dovrebbe terminare questa fase dedicata ai sottoservizi, intervento che ha inciso anche sui costi, oltre che sui tempi. Diciamo che da ottobre ripartano i lavori con l'esecuzione delle opere di sostegno per realizzare poi dopo lo scavo. La cronaca per parlare dell'incidente stradale è accaduto poco prima delle 6 sul tratto aretino dell'autostrada del Sole. E' accaduto vicino all'ingresso dell'area di servizio di Lucignano Ovest. Coinvolto un furgone con due persone a bordo, un 35enne e un 64enne sono stati portati in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, ambulanza infermieristica di Monte San Savino, la misericordia di Civitella e i vigili del fuoco. E torniamo a parlare di lavori perché procede il cantiere per la messa in sicurezza idraulica di Via Romana. Anche in questo caso abbiamo fatto il punto con nuove acque. Dopo aver imbracato e messo in sicurezza il manufatto storico rinvenuto nella prima parte del cantiere di Via Romana, i lavori procedono regolarmente. Adesso stiamo completando i lavori cercando di mettere in condizioni di poter realizzare finalmente quello che era l'intervento, il microtunneling che era previsto nelle fasi progettuali. Che significa microtunneling? E' un sistema che praticamente riesce a intervenire senza necessariamente scavare a cielo aperto. Quindi le tubazioni come vengono posizionate? Vengono posizionate attraverso questo macchinario che sarà posizionato nella camera di spinta che abbiamo visto prima e che verranno spinte all'interno della cavità attraverso un sistema di pistoni. Per cercare di anticipare i tempi stiamo già lavorando su un'altra porzione di cantiere che è da Via Largo Pontalto a Via Pascoli proprio per cercare di recuperare quello che era il tempo perso. Lo stop ferragostano verrà fatto combaciare con i tempi di posa del cemento e poi si riparte. Ecco quindi ora siamo nella parte bassa. La tempistica entro anno dove sarete arrivati? Questo è difficile in questo momento fare delle previsioni anche perché visti i ritrovamenti di reperti archeologici che abbiamo riscontrato Non è escludibile che poi nel corso dello scavo a cielo aperto si possano ritrovare altri reperti e questo chiaramente implicherebbe, così come abbiamo fatto nella camera di manovra, degli interventi di consolidamento e di protezione di questi reperti. Ci spostiamo adesso andiamo a Monterchi dove è stato inaugurato il percorso del Parco delle Rimembranze. All'inaugurazione era presente anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Momento importante per Monterchi l'inaugurazione del percorso del Parco delle Rimembranze alla presenza del presidente della giunta regionale toscana che a suo tempo, quando era presidente del consiglio regionale, emanò la legge che ha permesso la realizzazione. Questo sicuramente a presidente è un motivo di soddisfazione. La legge 46 è una legge a cui tengo in modo particolare la valorizzazione degli ambienti storici di grande ricchezza da un punto di vista evocativo con le fortezze, con i camminamenti sulle mura, con le torri, che vengono dalla legge sulle città murate, approvata quando io ero presidente del consiglio regionale, supportati da un punto di vista economico-finanziario. Il comune di Monterchi ha rivelato una capacità di realizzare un bel progetto e questo oggi lo concretizziamo, sono davvero profondamente soddisfatto. Quindi un comune davvero attivo in una Valtiberina che sempre più mostra buone amministrazioni e capacità di offrire un volto straordinario della Toscana. Noi siamo soddisfatti, fra l'altro i progetti delle città murate, questo è il secondo finanziamento che otteniamo dalla regione tostrana e per questo ringraziamo ovviamente il presidente che ha ideato questa legge sulla quale noi abbiamo lavorato molto. Questo è un progetto molto importante, qui stiamo valorizzando tutto il centro storico, questo è un punto di collegamento fra appunto il centro storico e la parte più bassa sempre del centro storico, che è un ambiente come vedete che può essere veramente vissuto dai nostri concittadini che possono ovviamente rivitalizzare tutte quelle che sono poi le attività e la fruibilità del centro storico. Andiamo adesso a San Giovanni Valdarno, anche in questo caso facciamo il punto sui cantieri presenti in città. Dopo il sopralluogo al cantiere della Rosai Caiani, il sindaco di San Giovanni Valdarno ha effettuato un giro sui cantieri attivi in questa estate in città. Raddoppio della bretella fra la zona di Santa Andrea e Piazza Palermo, Nuova Materna Rodari e Teatro Bucci, le aree visitate dal primo cittadino. Si stanno ora svolgendo le lavorazioni per che la brefellina di accesso tra Santa Andrea e Piazza Casprini possa essere a due corsie. Siamo poi passati al cantiere del nuovo asilo della Rodari, già a buon punto, con il getto delle fondamenta. Abbiamo visto poi i lavori che abbiamo fatto all'interno della scuola elementare Rodari, con i nuovi infissi e una sistemazione del resete esterno. Siamo poi passati al teatro comunale, uno dei cantieri più importanti e attualmente aperti, finanziato in un bando PNRR. Anche lì le lavorazioni ora stanno veramente entrando nel vivo. Si comincia a vedere quello che sarà il nostro teatro comunale quando riaprirà. Per la bretella gli interventi saranno praticamente conclusi ad inizio agosto, mentre per la ciclabile si dovrà aspettare settembre. Invece Rodari e Teatro Bucci vedranno il taglio del nastro entro il 2025. E a proposito di taglio del nastro ci occupiamo di un'altra inaugurazione, quella avvenuta alla presenza dell'assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini. È stato infatti inaugurato lo sportello territoriale dell'Agenzia Toscana per l'Impiego nel comune di Civitella in Valdichiana. Taglio del nastro per lo sportello territoriale del centro per l'Impiego con la sede del comune di Civitella che lo ospita. Quanto sarà importante per il territorio? È una nuova opportunità. È una nuova opportunità, quindi aprire qui nel comune di Civitella uno sportello aperto un giorno a settimana per il centro per l'Impiego. È un'opportunità per mettere in vicinanza quella che è la domanda e l'offerta. Un territorio ricco di industrie, ricco di imprese, ma anche tante persone che poi in questo momento perdono il lavoro o hanno bisogno di trovare una collocazione. Quindi avere un luogo in cui si mette insieme la domanda e l'offerta nel Palazzo Comunale penso che sia una buona opportunità per i nostri cittadini. Assessore Nardini, 53 complessivamente sul territorio regionale i centri per l'Impiego, 20 sportelli tra i quali si aggiunge questo taglio del nastro qui al comune di Civitella in Valdichiana. Quanto è importante la capillarità nel territorio? Importantissima, noi stiamo cercando di avvicinare sempre di più i nostri punti di accesso alle politiche attive del lavoro e ai percorsi di formazione, avvicinare alle cittadine, ai cittadini, a chi cerca occupazione, ma anche a chi già lavora e magari ha bisogno ad esempio di aggiornare le proprie competenze. Ovviamente servizi che sono a disposizione anche del mondo delle imprese, servizi gratuiti, ci tengo a sottolinearlo, servizi che mirano a dare risposta a quella criticità che ancora oggi riscontriamo nel nostro Paese che è appunto il mismatch, il disallineamento tra domande e offerta di lavoro. In Toscana sono già aperti oltre 20 sportelli decentrati, quello di Civitella si inserisce in questo percorso, in una fase socio-economica sicuramente complessa perché ancora oggi si fanno sentire le ricadute dovute alla pandemia, agli anni di pandemia, ma anche le preoccupazioni per quello scenario geopolitico che purtroppo ci vede oggi con un mondo in cui si combattono molti conflitti. Lo sportello è aperto il martedì dalle 9 alle 13. Campagna estiva delle donazioni di sangue nella stagione più difficile per la raccolta di sangue e plasma arriva l'appello di Avis Toscana. Mettiti in gioco è il titolo della nuova campagna estiva lanciata da Avis Toscana per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma. Un messaggio che sarà veicolato da più canali. Maggio e giugno, commenta la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, hanno già mostrato i primi segnali di cedimento in termini di donazioni e sappiamo che l'estate rappresenta sempre il periodo più critico. Questa campagna vuole intercettare un pubblico trasversale ma un focus peculiare sui più giovani. La campagna Mettiti in gioco, che ha vinto la seconda edizione del bando Corecom della regione La Toscana che fa bene come migliore campagna di comunicazione di pubblica utilità, punta quindi a fare centro da qui fino alla fine della stagione, facendo leva sulla qualità del messaggio e sui numeri. Parliamo, conclude la presidente, di un impegno davvero rilevante, finalizzato a coprire il più ampio range possibile. La solidarietà, conclude, non può permettersi di andare in vacanza. Proseguono gli appuntamenti della rassegna serate a Castelsecco. Giovedì prossimo, 25 luglio, è di scena la grande musica con Gianni Cinelli, la sua band e la bellissima voce di Laura Falcinelli. La serata sarà impreziosita dalla presenza di uno special guest di livello internazionale, Massimo Morganti, virtuoso del trombone, compositore e direttore d'orchestra. In programma brani e canzoni dei grandi compositori classici con incursioni nella musica pop. L'inizio della serata è previsto per le 21.15. Ed era anche questa la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti in programma su Teletruria per questa sera. Dopo il telegiornale potrete assistere a Newsline dentro la notizia, in cui si parla della storia di Papiano in Casentino. Farà seguito 9.10, quest'oggi curato da Andrea Gragnoli. La serata proseguirà poi con timeline e quattro vallate al termine chilometro lanciato. Il magazine di Teletruria dedicato al ciclismo, curato da Fabrizio e Massimo Biondi, che nella puntata di quest'oggi si occupa del circuito di Corniolo e della Coppa Italia per società femminili. È tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento in compagnia di Teletruria.